Gli angeli esistono e si manifestano quotidianamente. La grammatica di Dio ha una sola regola, l'amore. Il matrimonio non è una passeggiata, sono mille gli imprevisti e le difficoltà. Riscoprire il ruolo dell'angelo anche nella vita di coppia aiuta a rinvigorire ogni giorno lo sforzo di perseguire l'armonia e la pace. Gli angeli suggeriscono, ma non impongono. Fregare è soccorrere il prossimo, non girare le spalle davanti a un fratello in difficoltà. È donare un sorriso a chi ne ha bisogno. L'appuntamento con Federico Pini è fissato per il 17 luglio a Sulmona alle ore 18, presso il cortile di Palazzo dell'Annunziata. Modererà l'incontro Chiara Buccini, direttore della testata giornalistica ZAC7 e interverranno tra gli altri Manuela Cozzi, assessore alla cultura del comune di Sulmona e Monsignor Michele Fusco, vescovo di Sulmona Valva. Ascolteremo da Federico il racconto del suo percorso di fede e di vita. Venerdì 17 luglio alle ore 18 a Sulmona. Federico Pini, Una finestra sul cielo.